Antonella Fiordelisi fa una recente intervista e racconta, parla di Edoardo Donna Maria, racconta soprattutto il perché una volta usciti tutti dalla casa del grande fratello, Edoardo Donna Maria non frequenterà più i persiani. Infatti Antonella dice, non ho mai chiesto a Edoardo di scegliere, noi non frequentiamo chi ci manca di rispetto. Antonella ha lasciato un'intervista a casa a chi in cui parla e ha chiarito indirettamente di non aver avuto alcun ruolo in alcune delle decisioni prese dal fidanzato fuori dalla casa. Ovviamente si riferiva a togliere il follower a Nicole Incorvale e sua sorella Clizia. Certe persone, dice Antonella, non vorrei vederle nemmeno per un caffè. Il grande fratello era un gioco, fino a un certo punto le sempatie e le antipatie sono vere. Certe persone godevano nel vedermi stare male e non voglio averle vicine. Edoardo è diverso da me, si veda più degli amici. Alcune amiche hanno già dimostrato il contrario, ad altri come Tavassi tiene tanto. Credo però che con lui chiedri hanno. Poi chiedono ad Antonella se il suo fidanzato Edoardo andrà a me a mangiare un sushi con Paolo Ciavarlo e la sua compagna Clizia in con varia sorella di Nicole. Nicole è Tavassi e lei risponde così, sicuramente andrà con Paolo Ciavarro e basta. È un amico di Edoardo, è sincero e gli vuole bene. Non ha mai rilasciato interviste contro la coppia e non vogliamo avere amici che ci mancano di rispetto in quel modo. Parlo di Nicole, Tavassi che sta esagerando. Edoardo ci è rimasto male. Stanotte l'ho sentito dire che gli conviene stare con me, non è stato carino. Loro pensano solo al gioco, non all'amicizia o all'amore. E per questo motivo noi non rispettiamo più chi non rispetta la nostra coppia. E tu che cosa ne pensi della decisione presa da Edoardo e mai da Antonella? Scrivono nei commenti, lascia il mio like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao a tutti.